pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati parabola del buon samaritano occasione preziosa per verificare un po la salute del nostro cuore parliamo tanto d'amore bene vediamo a che punto siamo anzitutto il contesto gesù appena incontrato uno scriba aiutandolo a cogliere che per avere in eredità la vita eterna è necessario amare dio con tutto se stessi e il prossimo come se stessi dunque lasciarci amare da dio accogliere il suo amore nella nostra vita e corrispondergli continuamente amando il nostro prossimo siamo nati per conoscere l'amore del padre per imparare ad amare e amare un verbo transitivo cioè si ama concretamente qualcuno infatti gesù dice allo scriba hai detto bene fai questo e vivrai ma quello volendosi giustificare disse chi è il mio prossimo la parola prossimo nella società dell'epoca di gesù indicava solitamente chi è più vicino il connazionale quello della stessa religione il concetto si andava ampliando ma ancora c'erano varie restrizioni e chiusure in questo senso a noi sembrerebbe un ragionamento lontano dalla nostra sensibilità ma assolutamente non è così pensiamo già la tendenza umana che abbiamo a settorializzare a separarci a distinguerci in classi e categorie io sono del centro tu sei della periferia io sono del paese pinco tu sei del borghetto pallo io sono del nord tu sei del sud io sono europeo tu sei extra comunitario io sono nobile tu sei di una sottoclasse non meriti l'elenco potrebbe continuare e purtroppo a volte tocca anche le comunità cristiane noi siamo quelli che frequentano quelli sono lontani noi siamo di questo gruppo quelli sono una sottoclasse non ne fanno parte è chiaro che a volte abbiamo le pigne nel cervello cioè modi di pensare frutto anche della nostra cultura limitati errati che vanno purificati dal vangelo o quante volte le persone chiedono ma chi devo fare del bene ma uno così lo si può amare ecco allora che gesù racconta la bella parabola del samaritano un uomo incappa nei briganti che gli rubano tutto lo picchiano e lo lasciano a terra mezzo morto passano un sacerdote e un levita due persone influenti nella società due religiosi praticanti vedono quest'uomo ma che fanno passano oltre non solo passano proprio dall'altra parte della strada non sono stati capaci di fermarsi per spendere alcuni minuti per assistere il ferito o almeno per cercare aiuto perché perché per loro quell'uomo ferito era un problema forse perché per le regole di purità che gli israeliti si erano dati toccarlo significava diventare impuri inadatti al culto comunque vada era per loro un intralcio al loro rapporto con dio era un intralcio allo schema dei loro programmi quotidiani può capitare anche a noi di percepire come un intralcio come un problema la sofferenza di un altro può capitare di vedere che una persona sconosciuta sta male o viene aggredita o viene investita e anziché fermarci fuggiamo o ci teniamo a distanza magari riprendendo pure la scena con il cellulare può capitare di vedere in lontananza un povero e cambiare marciapiede può capitare di vedere la sofferenza di tanti anche in questo tempo di assurda guerra e cambiare canale della tv come se nulla fosse senza chiederci ma cosa posso fare io può capitare di vedere la moglie il marito i figli stanchi o che hanno bisogno di noi e invece di fermarci continuiamo la nostra corsa personale ognuno pensi alla sua vita e risponda in fondo qual è il problema essere così concentrati sulle nostre necessità al punto che la vista di qualcuno che soffre ci disturba perché non vogliamo perdere tempo per colpa dei problemi altrui questo diceva il papa il frutto di una società ammalata e di un cuore ammalato ci siamo abituati a girare lo sguardo a passare accanto a ignorare le situazioni finché queste non ci toccano direttamente siamo cresciuti in tanti aspetti ma analfabeti nell'accompagnare nel curare nel sostenere i più fragili e deboli invece miei cari la sofferenza e il bisogno degli altri è bene ricordare che sono una chiamata una chiamata a donarci chiaramente uno deve valutare poi reali necessità e urgenza delle situazioni ma c'è da esercitarsi nel dono di sé da allenarsi nello spezzare il nostro ego questo fa sì che possiamo essere davvero nella vita non solo come ancora ci ha ricordato papa francesco nella fratelli tutti in quelli che passano a distanza c'è un particolare che non possiamo ignorare erano persone religiose indica il fatto che credere in dio e adorarlo non garantisce di vivere come a dio piace una persona di fede può non essere fedele a ciò che la fede stessa esige in primis l'amore la carità per questo san giovanni crisostomo disse volete onorare veramente il corpo di cristo non disprezzatelo quando è nudo non onoratelo nel tempio con paramenti di seta mentre fuori lo lasciate appatire il freddo e la nudità il paradosso conclude il papa e che a volte coloro che dicono di non credere possono vivere la volontà di dio meglio dei credenti tornando alla parabola ecco arrivare un samaritano per un giudeo sentir la sola parola samaritano faceva quasi venire l'orticaria altro che prossimo era considerato uno scismatico un impuro un eretico grande dunque la provocazione di gesù luca ci consegna la concretezza della carità di quest'uomo il samaritano arriva vede a terra quest'uomo mezzo morto e si lascia semplicemente toccare il cuore da quella sofferenza vede e sente compassione luca usa il verbo splank no è usato per indicare proprio la compassione di gesù la misericordia è il verbo che indica il movimento delle viscere materne è quella compassione che dà vita perché diventa cura concreta della vita quest'uomo si ferma cura il malcapitato lo porta alla locanda paga due denari sono due giornate di lavoro e promette che se necessario pagherà anche il resto finché ce ne sarà bisogno miei cari qui abbiamo una scuola bellissima di carità notiamo quattro punti primo punto il samaritano gli ha donato il proprio tempo sicuramente aveva i suoi programmi i suoi impegni la sua giornata ma è stato capace di mettere da parte tutto davanti a quel ferito che non conosceva e donargli il tempo necessario siamo diventati avari anche del tempo quanto danno fa questo nelle famiglie nell'educazione nelle comunità religiose vivere come arcipelaghi come un insieme di isole staccate però tra di loro quanto è prezioso quanto è importante donare tempo donare attenzione agli altri perché gli altri stiano meglio perché gli altri possano fiorire poi secondo punto il samaritano fa il bene che può vedete dio non ci chiede l'impossibile ma il bene possibile non ci chiede di risolvere tutti i problemi del mondo ma di prenderci cura di quelle persone con le quali veniamo a contatto viceversa come dice la scrittura chi ha la possibilità di fare il bene e non lo fa commette peccato oltre al male commesso dovremmo imparare a confessare anche il bene omesso terzo punto il samaritano si prende cura della persona per il tempo necessario noi a volte siamo quelli della carità frettolosa degli istinti caritativi per cui lì per lì in preda allo slancio diamo poi arrivederci e grazie può nascondere la cura del proprio ego faccio qualcosa per sentirmi bene oppure mettiamo in atto la pastorale degli eventi dove ciò che conta è far rumore non il vero bene della gente ecco il samaritano fa tutto il bene possibile per tutto il tempo che serve quarto punto il samaritano affida il malcapitato alla locanda cioè si lascia aiutare non pretende di risolvere tutto lui ma consegna a quella persona appunto al locandiere noi non siamo degli assoluti dobbiamo imparare a collaborare per meglio aiutare e questo vale a qualsiasi livello a livello umano nell'accompagnamento spirituale a livello pastorale se ad esempio mi rendo conto che quella persona ha bisogno di altro di uno specialista di una persona più preparata di una comunità religiosa ma indirizziamo le persone verso il loro bene assicurando la presenza la preghiera ma non leghiamo egoisticamente a noi la gente ciò che conta è il vero bene delle persone infine gesù domanda allo scriba quale di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che aveva incontrato i briganti e giustamente rispose quello che ebbe compassione di lui e gesù vai e fa anche tu così siamo partiti da chi è il mio prossimo siamo arrivati a di chi ti fai prossimo cioè il prossimo non è l'altro o non sono alcune categorie di persone il prossimo è colui al quale tu ti fai prossimo questa domanda può diventare una sorta di esame di coscienza io oggi di chi sono stato prossimo come mi sono preso cura della vita che Dio mi ha messo accanto che mi ha affidato cari fratelli e sorelle ricordiamoci che Dio per primo si è fatto e continua a farsi nostro prossimo tutto comincia dall'accogliere quest'amore e imparare a nostra volta a farci prossimi gli uni degli altri in fondo come ci ha ricordato papa francesco davanti a chi soffre non c'è più distinzione tra abitante della giudea o della samaria né sacerdote né commerciante semplicemente ci sono due tipi di persone quelle che si fanno carico del dolore e quelle che passano a distanza ma miei cari vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile non possiamo lasciare che qualcuno rimanga ai margini della vita questo ci deve indignare fino a farci perdere quella falsa pace frutto dell'egoismo e lasciarci sconvolgere e smuovere dalla sofferenza umana che ci interpella questo è dignità questa è l'unica via per costruire un'umanità più fraterna e solidale che il buon Dio vi benedica pace e bene a tutti